E ciao ragazzi ed eccoci qui con un altro video. Oggi farò il gameplay su Mortal Kombat X per Android e sto sempre registrando con Samsung S7 Edge. Allora, anche questo qui è un bel gioco, io pensavo fosse una stronzata, invece è proprio bello. Allora, andiamo su modalità battaglia. Vi faccio proprio vedere una battaglia 2. Allora, combatti. Faccio attenzione a non mettere la mano sul microfono e sulla cassa. Ok. Tocca per selezionare questo alleato. È molto molto carino, possiamo pure fare le fatality. E come grafica, adesso lo vedrete, è molto molto bella. Ok, fight. Io spero che si senta il gioco, magari ho abbassato troppo, non lo so. Dai! Ha cambiato personaggio, stronzata. Bam! Adesso vedi? Sub-Zero. Tosno! No! Oh, cambi sempre, cambio anch'io allora. Bam! Bam! Come gioco per telefono è veramente carino. Purtroppo non possiamo fare chissà che mosse, però dai. Ci sta! Spero che non si sentano le dita che toccano il touch, lo schermo. Bam! Cambiamo personaggio. E muore. Bam! Ok. Eeeh. Ma sì, chiamo l'alleato. Guardate che cigata. Veramente una figata sti droop al telefono. No, mi ha congelato. Vai! Sub-Zero, se ti odio. No, non l'ho fatto in tempo. Eeeh, vabbè. Cambiamo. Dai, che adesso Sub-Zero vaffanculo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Obiettivo sbloccato. Abbiamo avuto 3.000 monete. Altre 1.000. Un altro obiettivo. Ok. Prossimo. Ovviamente questo gioco qui è totalmente gratuito, quindi date nello store a comprarlo. Allora, andiamo nel menu. Menu principale. Allora, nuovo pack. Vediamo un po' se c'è qualche pack da poco. Eh, mamma mia. Pack Famiglia Cage. 108.000 gettoni. Andiamo indietro. Non ce n'è nessuno da poco. No. Tutto da... Minchia, ce n'è uno da 21 euro. E' 85. 22 euro. Uno da 70.000. Quindi niente, io volevo vedere cosa potevo trovare dentro un pack qua assieme a voi. Ma niente, quello che costa di meno è quello da 30.000, ma non 24. Quindi nulla. E niente, per questo gameplay è tutto. Se volete altri gameplay su Mortal Kombat 10 per Android, fatemelo sapere sotto nei commenti. Se avete qualche gioco da consigliare, consigliatelo pure. E diversamente, per questo video è tutto. Ciao a tutti e a un prossimo video. Ciao ragazzi.